Porto sul posto a chi rendi l'istata? Devo arrivare a passare C'era una rimessa in gioco Asin La presa La presa La presa Opla Giulio non sa se prendere la palla o rimane la galla Si non rimane Si non sa se prendere la palla Si truffo Si truffo Un po' dai facciamo stare cos'è? mi è andata l'acqua in bocca e facciamo asina d'animo ok l'hai chiamata adesso sei adi o adi adi ok migliore l'hai chiamata e decola ma dai è certo vi facciamo no allora andate a farlo asina 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 mandatelo fuori minchia lo che sta vincendo tu sei? as ancora tu asina asina a rischio ho da prendere le cose dai questa è tutta mia è ausiluro adesso dove ti fatico a stare a dalla? mi auto elimino per tira imprendibile si te rimasti per rientra in gioconte miguel io ho da prendere le cose è ausiluro